Siamo con il professor Luigi Simonetti e vogliamo un po' parlare e sapere qualcosa della figura di Giordano Bruno. Giordano Bruno è il simbolo vivente dell'eternità. Quando il suo pensiero vola nell'infinità dei mondi, il nostro essere diventa l'armonia di tutto ciò che esiste. Perché Giordano Bruno ci ha insegnato che l'essere dell'uomo è la divinità del vivere nell'immensità dell'universo. È un pensiero per gli studenti che quest'anno non vedranno come l'anno scorso il progetto brugiano. Il certame. Il certame. Il certame. Il certame ci manca perché manca la concentrazione dell'uomo sui problemi della realtà. Oggi viviamo sospesi nel nulla. Ci aggiriamo come polvere del vento. Ed ogni cosa passa in un momento. Ah, bravo! Ci aggiriamo come polvere del vento. Ci aggiriamo come polvere del vento. Ci aggiriamo come polvere del vento.